Antonella Clerici incarna la sincerità come principio cardine, un valore che permea anche i suoi programmi televisivi. La sua lunga carriera in Rai, un impegno di vita, verrebbe interrotta solo da un'offerta irresistibile. Presto, ritorna in prima serata con The Voice Kids, un programma che le sta particolarmente a cuore, evidenziato dal suo costante impegno nel far emergere il talento dei giovani, come nel caso del volo, cresciuti grazie a Ti lascio una canzone, show da lei condotto. Ma Antonella non è solo una competente professionista, è una donna che ha affrontato la menopausa, un tema spesso considerato tabù. Su questo e sulle sue esperienze passate, inclusa la gelosia verso i suoi ex, ha apertamente dialogato con la stampa. La sua franchezza offre uno sguardo autentico sulla vita dietro le quinte, aggiungendo un tocco di umanità alla figura pubblica di Antonella Clerici. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.